Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video di colui che mastica le carte, mio figlio, non io o almeno questo è la pista da seguire per scoprire come mai questo sigillo a Zorius sia diventato così io non sono solito rovinare le mie carte così tanto anche se molti di voi quando giovano con me ai negozi dico oh ma che fai riflessio perché non è una cosa che è super piacevole ciao come state buon sabato spero tutto bene spero che sia assolutamente un bel weekend io tra l'altro questo sabato sarò a Milano questa sera alla partita dell'Ital Basket quindi cioè dell'Italia del Basket che si svolgerà credo nel palazzetto dello sport di Milano come si chiama? Assago e successivamente domenica sarò in piazza Duomo per un evento e-sport che presenterò cioè la finale del Fippi Basket Tour e oggi in verità qui su Youtube non parliamo di basket ma lo dicevo per chi mi volesse beccare a Milano domani in piazza Duomo è pubblico quindi potete entrare e potete venire a salutarmi e facciamo un pack opening un pack opening è tantissimo che non lo facciamo soprattutto su MTG Arena è un contenuto che non è che ha portato come si dice che è super divertente in cui vi do informazioni di chissà di che tipo però voglio aprire tutti questi pacchetti di Dominar United per dedicarmi poi la prossima settimana allo standard con un deck ogni giorno quindi la prossima settimana lavoriamo sodo 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 quindi prima di cominciare come sempre se vi va mettete un like sulla fiducia magari andatevi a vedere il mio TEDx è in descrizione io sono un TEDx speaker e poi vi avviso quando la prossima settimana c'è anche un mio articolo sul Corriere dello Sport leggetevi anche quello sempre e solo sulla fiducia bene allora è nata finalmente la funzionalità di aprire 10 pacchetti noi qui abbiamo 100 pacchetti di Dominar United da aprire 100 100 che poi questi sono quelli come si dice di Dominar United Alchemy cos'hanno? Cominciamo da questi dai ne apro uno credo che siano quelli Alchemy no? o no? cosa hanno di speciale questi pacchetti? intanto abbiamo trovato la sfinge e magari valutiamo insieme in questo pack opening un po' di carte di cui non abbiamo parlato comuni e non comuni che vorrei vedere nello standard anzi vorrei vedere che secondo me comunque entreranno nello standard e possono essere utili attenzione Weatherlight Completed che nella mia recensione di ieri ho detto che voglio usare Hammerhand Hammerhand è una carta vero? non fa bloccare e dà rapidità a una creatura non lo so se è proprio una carta però insomma tanto c'è della musica trap no no cazzo di musica ho messo io qua non lo so attenzione all'iliana del velo che ci serviva e arriva assolutamente protect the negotiator è una carta che ho già visto utilizzata in qualche mazzo token sicuramente la prossima settimana andremo anche a fare un mazzo token due mana per una spell che fa counter a meno che non paga uno per ogni creatura che controlli che è molto carina se la chicchi fai anche un 1-1-1 quindi pagherà ancora uno in più insomma andiamo a vedere cosa c'è in questo pacchetto the world spell altra mitica dopo l'iliana del velo mica da ridere questo pack opening stiamo andando molto bene take up the shield è un'altra carta che ho visto giocare un po' in questi mazzi standard del day one che poi che cosa funzioni lo vedremo solo successivamente insomma un altro weatherlight complete un sacco di mitiche ma questi forse erano dei pacchetti dei mythic pack cos'erano perché mi erano stati dati ho comprato il bundle e poi 45 se non sbaglio 45 pacchetti proprio per fare il numero come si dice 100 che mi piaceva parecchio direi andiamo a vedere apriamo adesso ne apriamo 10 insieme oh non l'ho letta neanche perché non me l'ha fatta leggere volevo leggere quel resolute reinforcement che secondo me anche quello è una carta che vedremo chi c'è qui temporary lockdown anche questa carta che sta aiutando a definire questo nuovo standard un'altra the world spell questa non ci voleva giusto ah c'è anche crystal grotto entra scrai uno ma questo è molto forte wow come aumenta il power level delle carte quella carta non ha mai scraiato uno in vita sua quel tipo di carta volatian mind slinger ne abbiamo parlato nella review questa non è una carta che su cui ci concentreremo vogliamo concentrarci per fare un mazzo meme e divertirci tutti insieme rata darbr come chi ispita si chiama lui the urborg anche lui of urborg io ho detto the urborg faccia la ride però faccia la ride questo chi è crea un 1-1 poi c'è lightning strike che ovviamente comunque vedrà gioco ok dai apriamo questi dieci pacchetti però ci fa vedere solo le rare vabbè intanto andiamo a vedere quindi queste dieci rare quanto spaccano beh la medica wildcard molto molto utile poi abbiamo the elder dragon war temporal firestorm molto rosso doppio rivats non benissimo drag to the bottom con una carta anche lei che sicuramente vedremo archangel of wrath di cui abbiamo parlato molto forte vediamo se riusciamo a farla funzionare standard anche il defiler beh comunque insomma un'ottime dieci rare dai continuiamo a sbustare così ancora protect the negotiator e aiani non male questo paccomering ci sta regalando gioie facciamo dieci pacchetti così dieci pacchetti insieme squee per la prima volta giustamente magica arena ci dice dove siamo arrivati dove insomma quando c'è il pacchetto e quando no comunque non so se avete pensato a questo standard intanto magari ne parlo perché una cosa di questo standard che salta subito all'occhio è che la mana base wow aiaiaiaiaiai non benissimo intanto ci scordiamo le terre di dungeons and dragons quindi non avremo più la possibilità di utilizzare terre che fanno qualcosa tipo attaccare ma c'è di più ci scordiamo le terre di zendigan rising quelle erano veramente molto potenti c'è le terre modali quindi da esso in poi la nostra mana base per lo standard saranno quelle carte fine con i triomi magari riuscite effettivamente a ciclare qualcosa quindi potete fare qualcosa se non avete bisogno di quella terra però in generale purtroppo non c'è niente nelle terre che sia davvero interessante niente terre animabili ci sono le channel land che quindi sono le uniche terre che si possono utilizzare ma come sapete le channel land hanno come si dice al di fuori di determinati strategie determinati mazzi è anche poco da dire cioè non è che se sono un mazzo rosso devo per forza giocare so ken zan o se sono un mazzo nuovo devo per forza giocare da che no ma non è assolutamente detto che comunque appunto in qualche modo queste terre devono entrare per forza dei vostri mazzi mentre secondo me era assolutamente detto che ci sarebbero entrati invece le carte come si dice le terre animabili cioè le terre animabili erano chiaramente delle terre un must have come si dice in gergo soprattutto in termini di strategie mid range però in generale ci volevano comunque sempre seconda liliana che dovevamo avere anche per il pioneer e altra apertura da 10 dove andare a trovare la terza e la quarta ma mi sa che una me l'hanno data con il bundle occhio azzur questa è una cave of colos dobbiamo raccogliere anche tante pain land out i di jean per la prima volta e out i di jean è una carta che io ho già visto giocare in qualche mazzo chissà cosa mi inventerò appunto per la prossima settimana di standard voglio portarvi dei contenuti originali dei mazzi che magari riesco a inventare io almeno ci proverò defiler questo l'avevamo già trovato e non ci piace il defiler nero a dirla tutta iota the krails war che fa questa crea una 0-2 poi ah che c'è fa il proprio ornitotter ok figo tappi qualunque artefatto e fai danno a creatura o prince walker ok un artefatto diventa una 4-4 attenzione a questa carta in pioneer nel mazzo artefatti attenzione a questa carta in pioneer perché potrebbe fare dei danni ok potrebbe fare dei danni qui abbiamo trovato shieldred bello shieldred la vedo giocata in un sacco di persone un sacco di streamer che la stanno provando e continuano a non impressionarmi ragazzi però devo dire che ecco insomma diciamo che io ho proprio dato non vedrà gioco totale forse mi dovrei ricredere anche questa carta ho visto dei mazzi token questa carta addirittura c'è qualcuno che vuole giocarla in modern vediamo come va e come non va ma abbiamo trovato la carta blu che sta giocando a spying spike nei suoi che non mi pare che l'abbiamo trovata la carta blu che sta giocando a spying spike nei suoi streaming che sarebbe quella carta che praticamente è una 2-1 che poi pesca carta crea un 1-1 rimbalza pezzo quella cosa di rimbalzare pezzo lui la sta giocando in modern pensate un po' insieme a un band soulherder company per fare chiaramente gli impiccico di enter the battlefield trigger e morire da torpor orb le volte chiaramente qualche matto tipo meglio lo fa intanto stiamo accumulando un sacco di wildcard che ci serviranno non poco chiaramente nella diciamo nella scrittura dei nostri mazzi standard andiamo a vedere cosa ci sta in queste 10 rare vediamo un po' vediamo un po' altro shion devastator arriva il placewalker rosso questi cosa sono due painland va bene questo penso che sia il terzo quindi buono invece è il primo lord dei goblin che è molto molto carino quando lui o un altro goblin muore esiliate la top card fino al fine del prossimo vostro turno bene la liliana numero 4 quindi forse non è arrivata vediamo un po' di altre carte che io penso quantomeno che trovandole chiaramente comuni non comuni potranno entrare nel meta questa per esempio shoulder restoration è una carta interessante ragazzi 4 mana per fare un race dead che vi fa male per il mana value si chiaramente insomma se dovete fare il palazzo di danni ve ne fa molti però vi recupera 5 danni 5 vite lui invece qui in allena no qui in allena non credo che gliela faccia ecco questo è poco ma sicuro andiamo a vedere il prossimo che c'è qui plaza o virus oh no ho provato apri 10 non volevo meno male ok ok questo ne parlano un po' no non è questa carta scusate ho sbagliato c'è un'altra carta blu rosso di cui si sta un po' parlando eccola la nostra quarta ma è vero che abbiamo trovato i quattro sono stati così fortunati il nostro mod Luca molto probabilmente non sarà contento stiamo preparando un po' i mazzi per i prossimi video Liliana vediamo un po' Liliana 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 vediamo se ne ho trovate quattro wow 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 Liliana of the Vale quattro per not bad not bad per niente insomma not bad per niente allora andiamo a vedere un po' ripeto altre carte questo chi è? no non non lo vedo possibile come citizen arrest neanche andiamo a vedere quale è la rara drag to the bottom che invece è una buonissima rara perché insomma fare vratta è importante per tutti eh ragazzi questa rona svortex non ve ne ho parlato nella card review anche questa è una carta che vedo moltissimo e Giota The Unifier che io ho trattato malissimo nella mia card review dicendo ma no dai con questa carta non riuscirete a fare niente invece ho visto che sembra una delle carte più pericolose del set qualcuno l'ha addirittura ragazzi indovinate un po' accostata ad Omnath per power level cosa su cui io non sono molto d'accordo però vuol dire che sta veramente facendo bene facendo bene Carn Silex che abbiamo già trovato perché se no ci avrebbe detto first ma non sono super attento andiamo a vedere comunque quello shoulder restoration secondo me si può giocare veramente in 4 peri in tanti mazzi ragazzi quindi occhio ai mazzi reanimator in questo standard potrebbero esistere beard negate che disegno strano chi è lui troppo poco forse non saprei altro timeless lotus ecco questo invece incostruito non lo vedremo mai o almeno non credo questa è un più 1 più 1 a una creatura che fa anche indistruttibile e lifelink chi lo sa chi lo sa se si vede al gioco per quella carta questo è il volante che secondo me non non ha significati attenzione attenzione qui cosa c'è di interessante niente beh la wildcard mitica forse in verità è molto interessante a dirla tutta qui invece c'è questa automatic libera che non è niente di costruito no tra l'altro una carta di cui non ho parlato in verità è impulse che viene ristampata con nominare united e potrebbe effettivamente servire a moltissimi mazzi tra l'altro entra in modo ok questa è una carta vera ok dicono clasta di amivai yavi maya questa è veramente una carta molto vera 3-2 a 2 che se lo fate a 3 una volta si faceva un cinghiale rapido a 3-3 lui tra l'altro anche trample la fate 4-3 rapida fino alla fine del turno poi chiaramente continua ad essere una 3-2 trample molto forte questa carta io vedo un mazzo secondo me verde e nero che può giocare molto però lì ci vuole anche il rosso quindi jand però aggressivo allora attenzione qui chi abbiamo niente urbor glurgoif se si parla dei cimiteri lui è il re dei cimiteri o almeno il re delle carte che è con il cimitero pieno eccolo qui impulse impulse signore è una comune che vi fa guardare di solito c'è anticipate nei formati standard e questa carta mancava anche al modern che quindi finalmente la trova quattro carte una in mano il resto nel bottom della library cioè alla fine della library che è una cosa insomma guardare quattro carte non ho male una delle saghe rare vi ricordo che queste saghe hanno read ahead quindi voi potete fare direttamente il capitolo 3 se vi va oppure cominciare dal 2 allora attenzione a questa relic of legends perché questa relic of legends probabilmente è una carta che si potrebbe giocare nel mazzo di joda appunto quello leggendario perché di suo è un sasso che vi dà un mana di ogni colore ma dà un'abilità a qualunque creatura leggendaria di darvi un mana di qualunque colore è una carta sicuramente forte perché non non ho mai trovato quella verde che spacca permanente ve la volevo far vedere quella carta comunque è una carta interessante allora vediamo un po' qua che c'è ah no io non ho peccato questa cosa che ogni tanto clicco non si sa e quindi non devo cliccare in nessuna parte questo non non è forte niente che troviamo the cruelty of geeks altra saga rara o quante c'è no 22 ore 24 miglia qui servono e qui tocca fare un sacco di mazzi con queste carte the raven man altra carta che forse io ho un po' sottovalutato ma che sta andando mica male e che i mazzi stanno giocando anche in standard chiaramente è il miglior amico di liliana adesso come adesso oh pensa la prima volta che trovo tolarian terror pensate che questa carta di cui abbiamo parlato nella card review è anche una carta che si sta giocando in standard pensate quanto è forte questa effettivamente è forte assolutamente lightning strike questo è una carta per token però non non vedo che si stia giocando insomma ma diciamo che le carte di token vengono tutte più o meno da innistrad anche se appunto resolute reinforcement non siamo riusciti bene a vederla prima poi andatela a cercare guardiana di nuova benalia su cui ho puntato tantissimo nella mia card review ho voluto fare delle scommesse molto gravi speriamo di non venire lapidato in salamensa meria la nuova urzetta no non è vero però insomma abbiamo già parlato di quella carta sicuramente il nostro standard playable un altro defiler rosso manca poco abbiamo appena finito il pack opening oh 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 niente di che defiler nero un'altra volta mamma mia andiamo avanti a defiler questa è la carta con l'immagine animica del georgie italiano academy lore master che se non è insomma vediamo se si generano mazzi contro ad un certo punto di questo meta ora chiaramente io vi sconsiglio giocare contro all'inizio del meta perché la gente sta cercando di giocare tutto il contrario anche di tutto più solo un shot che fa distrugge credo la tappata a 2 fai pure scray 2 troppo poco ecco la serra paragon ci andremo sicuramente a giocare in explorer noi quella carta lì Karn da living legacy però negli ultimi tre pacchetti mica male questo niente di che questo niente di che una bella wild card rara meglio di qualunque carta visto che ci serviranno per fare crafting di tantissime carte questa non si giocherà mai secondo me vediamo un po' che c'è qui essence cutter chiaramente si giocherà e zur conclude il nostro pack opening bene ragazzi allora io video proprio molto diciamo non troppo impegnativo per affrontare invece la settimana che ci aspetta che sarà molto impegnativa se volete supportarmi sapete come fare per il resto godetevi il weekend e con chi di voi a voglia ci vediamo a milano piazza duomo domenica grazie a tutti